Amici, finalmente è tornata una reaction. Finalmente. Allora, ritorniamo in grandissimo stile con la reaction ai Falling in Reverse. Io non so quanti di voi sappiano dell'esistenza di questa band, ma è una band comunque abbastanza vecchia. Ronny è uno dei miei cantanti preferiti, fa veramente delle cose pazze fuori di testa e se non avete mai sentito una loro o una sua canzone andate subito a recuperarvi qualche traccia. Anzi, ditemi qui sotto nei commenti se volete la reaction pure a quelle. Ovviamente già le conosco, ma vabbè, non importa. Sono sempre comunque delle hit gigantesche. Oggi facciamo la reaction a Ronald, che è uscita qualche giorno fa. Io ho aspettato tutto questo tempo per ascoltarla, perché avevo intenzione di far la reaction. Allora, lui... ragazzi, questa band fa... non... ovviamente sono senza parole, non so neanche parlare in questo momento da quanto sono eccitato per ascoltare questa canzone con voi. Preparatevi perché secondo me sarà un video epico, perché da un po' di tempo a questa parte i loro videoclip sono tipo dei film, sono assurdi. In più, vabbè, Ronny, ragazzi, Ronny fa delle cose assurde con la voce, cioè, canta in melodico, rappa da paura, scream, growla, cioè, ragazzi, fa un casino. Ma io basta, io non voglio più perdere tempo, voglio ascoltarla. È tanto che non faccio una reaction, quindi speriamo che si vada tutto bene, oggi anche senza cappellino, perché secondo me c'è da muovere la testa e non voglio imitare i movimenti con il cappello. Siamo pronti, io sto già male. Let's go! Ronny, Ronny, ti prego, calma, Ronny, calma. Che cazzo è questo inizio così, già? Non importa? No, no, picchia tutti, picchiali. Ok. Mamma! Raga, cioè, sta già, dai, sei lui che vuole la forma, dai, ma di cosa stiamo parlando? Wow! Che cazzo è? No, vabbè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Mamma! Guardate, cioè, vabbè, Ronny, io ti amo, e... va così. No, devo andare indietro. E' cattivo! E' cattivo! Corri, corri! Mamma! Ridi, bro! Oh, scusate se continuo a mettere in pausa, ma di cosa stiamo parlando? Io voglio... Ronny, devi fare un film, ti prego, diventa un... anche il mio attore preferito, già che ci sei, ma di cosa stiamo parlando? Ecco, manda un messaggio su Instagram al tuo rapper, al tuo cantante preferito e dirgli di imparare a far le robe, per favore. Mamma, quanto sei cattivo, bro! Mamma! No, 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 aspetta! Merda! No, raga! Poi, raga, quanto è fregno? Cioè, ora scusate se lo dico così, ma... sto pischeletto qua... Quarant'anni? Questo è... Popular Monster? No, vabbè! No! Ma non c'è scritto nel titolo che c'è Tech9ne, ma di cosa stiamo parlando? Voglio riascoltare l'attacco di Tech, ti prego! No! Che, che mostro! No, vabbè! Che mostro! Oh! Cos'è? Un tornado? Cos'è? Vai, Ronny! Guarda, che fregno! No! Oh! Seduto all'inferno? No! Oddio! Oddio! Oh! No, raga, questa è la maschera di Alex! No! Oh! 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 No! 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 Ma come fai? Ma no! No, 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 no! Ma come fai a finire così? Ma come fai? Io voglio subito un altro video, vi prego! No, 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 no! Comprendo che io sono super ipergasato, ma perché una delle mie band preferite, Ronny, te lo giuro, cioè, non so che altro dire, raga, ma ok, allora, Ronny ci è abituato a, negli ultimi anni, ha comunque delle tracce belle, potenti, con una parte super rappata, super breakdown della Madonna, e qua, ok, per il golfiatone un attimo, eh, ma c'è Tech N9ne dentro la canzone, ma a parte che è una vita che non l'ascolto, che non lo sentivo, ma quanto è bello è stato, perché non l'ha scritto nel titolo, beh, ci sta, da un quell'attimo di stupore e sono veramente d'accordo con la sua scelta, raga, ma, volevamo parlare della cattiveria di questa canzone e del video assurdo, questo è il video dell'anno, ragazzi, eh, questo è il video dell'anno, Ronny, fai una serie tv, tutta così, in Italia non so quanto si è ascoltato, io spero che ci sia qualche fan dei Falling Reverse che sta guardando questa reaction, se così fosse, scrivetemi un commento dicendomi cosa ne pensate, vi prego, voglio sapere, voglio discutere di questo video, di questa canzone, soprattutto, ovviamente, se volete altre reaction al metal, dato che in Italia non siamo in tanti, o comunque siamo tanti ad ascoltare il metal, ma siamo in pochi, magari farci le reaction, scrivetemi se volete altre reaction sui Falling Reverse o su altre band che magari potete anche consigliarmi voi, ovviamente poi ritorneranno anche le reaction ai dischi rap e qualsiasi altra cosa italiana, ovviamente, perché, ragazzi, musica, metal, io ascolto metal, ascolto dubstep, ascolto deathcore, frenchcore, ascolto qualsiasi cosa, a parte il reggaeton, amici del reggaeton, mi dispiace, ma non riesco a farmela piacere, quindi, ragazzi, io ascolto tutto, quindi consigliatemi tranquillamente nei commenti a che cosa fare la prossima reaction. Detto questo, io ti invito ad iscriverti al canale per altre reaction così, e ovviamente se ti piace il gaming, c'è molto gaming nel mio canale. Bro, iscriviti, che cazzo cosa aspetti? Iscriviti solo per Ronny, ti prego, dai!